Roma, 28 febbraio 2022, ore 18, archivio nucleo operativo, comitato censura audio. Sequestro numero 667, brano di contenuta sovversivo, numero 96. Provinienza, bravo un cielo, oltretò ultradontale, autori processati e contattati a riprogrammazione neuronica. Provinienza, bravo un cielo, oltretò ultradontale, autori processati e contattati a riprogrammazione neuronica. E mi ritrovo che di anni ne ho quasi quattro, ho ancora i capelli sulla testa. Ma nel cuore sento un vuoto, e si affanza adesso. Non ci sono più le tere vendite nel basco. Se al mattino mi trova lato, non posso guardare al giro, perché domina l'ipocrisia del mondo moderno. Un ruolo democrazio, si è levato alla sua maschera. E invece, una forza di perdone. E invece, una forza di perdone. Sarà la musica, la musica, la musica Un 4.000, a me raffunderà il mondo La nostra preoccupazione era accumulare discografie Siamo nell'anno 2022 Loro cantano, televisione radio Già un comitato di censura Oddio, valutano, deciderò Quel che sì, quel che no Tirano musica in acqua Da qualche all'auto Sarremo lo presenta Un crozzo insieme a me Con i tuoi da scenografia spettaturale Eppure chi cantava l'anno originale Si è punturato e io ho fatto il cuore E per non c'è una chiesa Che va anche in mare E c'è un virus che si prende Travite il sudore E da matto a me si muore L'Hakai Bubikon Pronto sembra l'altro addore E dove l'affreddore Non c'è più l'affreddore E la dose Seconda dose Terza dose Di tonione Sei già schiavo Pugnionato In batteria Adopperai Se il tonione E la sala fuori legge Di quanto di questo parla Potevamo anche fermarlo Adesso è tardi Adesso è tardi Ero un poeta pirata Che spera Volei ritorni a Tanta nostalgia Negli anni da matta O